ma sono andato pranto la cosa non la portano più un giro ma la portano la cosa io lo porto e portano e lì ho fatto un'interzione io la volevo mandare sinistra se l'ha finitata lì ho detto puoi andare a destra però lo vedo un altro video guarda ho fermato e poi ci sono mi volevo dare un altro comando da apertura però non mi hanno detto tutto se lo dà proprio lì mi è venuto un flash e mi ho detto ti ha un pozzicino si 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 un po' l'uomo ha preso l'abbia tua è respirato l'abbia di campo? non lo so già Grazie per te! Grazie a tutti. Grazie a tutti.